Siamo nel cuore del campetto intitolato Nino Cesarano, campetto che fa parte del complesso oratoriale dedicato a San Giovanni Bosco, voluto fortemente da Don Enzo Di Nardi e dall'intera parrocchia di Santa Maria del Carmine di Pagani, una struttura grandissima che servirà non solo la parrocchia ma l'intera diocesi e sarà utilizzata per tantissimi momenti, da quelli ludici con il campo di calcetto, il campo di bocce, l'area giochi per i più piccoli, ma anche per convegni ed opere e rappresentazioni teatrali grazie ad una bella sala teatrale che sarà costruita da qui a pochi mesi. Siamo proprio nel perimetro del campo di gioco, è stato delimitato, adesso i lavori procederanno in questo modo, ci sarà un campo di calcetto 26-27 metri di lunghezze e 18 di larghezze, un lavoro qualificato che però ci permetterà di avere questo campo di calcetto a disposizione della parrocchia ma anche della forania e anche delle altre parrocchie della diocesi. Questo è il campetto, poi alle sue spalle non si vede ancora nulla ma lì sorgerà l'auditorium, teatro, sala della comunità e chi più ne ha più ne metta. Certo, questo è il campetto intitolato Nini Cesadano e dobbiamo dire che molte persone spontaneamente stanno contribuendo alla realizzazione di questo campetto con offerte. L'auditorium verrà lì al centro e ci saranno un palco, un grande palco con circa poi 130 posti a sedere, potrà essere utilizzato per teatro, per convegni, per momenti di catechesi, momenti di incontro, ci saranno varie attività. Ma c'è anche il campo di bocce che sorgerà in quell'altra direzione. Così anche i più anziani sono contenti. E poi avremo in quell'altro posto più avanti un momento ludico per i bambini con delle giostrine. Ringrazio anche il Vescovo Giuseppe che nel discorso alla città recentemente ha sottolineato che gli oratori devono essere proprio questi luoghi di formazione permanente. Ringrazio anche il Vescovo Giuseppe che nel discorso alla città recentemente ha sottolineato